Sabato 10 aprile, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 alle 7 puntuali, tutte le mattine c'è il commento alla stampa del giorno, abbiamo già selezionato per voi le pagine del resto del Carlino e il Corriere Adriatico e tra poco commenteremo, vedremo quali sono le notizie più in evidenza e più importanti di oggi come sempre però partiamo dal Santo e vediamolo con l'aiuto della grafica oggi è Santa Maddalena di Canossa, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà il 19.49 Questo fine settimana da zona arancione per i marchigiani, almeno arriva la pioggia anche forte al nord e parte del centro, neve sulle Alpi, tra lunedì e martedì un vortice ciclonico sull'Italia temporali, neve, vento e nuovo calo delle temperature andiamo a vedere velocemente il tempo nella nostra regione per quanto riguarda la giornata di oggi sabato mattina, poi pomeriggio con qualche annuvolamento, la sera iniziano le piogge soprattutto sulla collina pesarese, domani, domenica dicevamo il cambiamento eccolo qua il tempo peggiore con la provincia pesarese e anconetana interessata dalla pioggia soprattutto al mattino, il pomeriggio la pioggia diminuisce, la sera diciamo di domenica le perturbazioni svaniscono, poi eccola qua lunedì la giornata di lunedì mattina ma il pomeriggio di nuovo la provincia pesarese lunedì sarà interessata da piogge e schiarite Allora iniziamo da Chiara Ferragni, partiamo da Chiara Ferragni Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione di TOZ l'azienda di casette d'ete in provincia di Fermo Allora questa è la copertina del Corriere Adriatico di Pesaro ma tutte le edizioni provinciali e regionali del Corriere puntano su questa immagine che ritrae appunto l'influencer che ha milioni e milioni di seguaci e che entra nel appunto CDA Consiglio di amministrazione Il titolo vola in borsa della Valle Ferragni la svolta di TOZ Questo è il titolo Vaccini invece, nuove postazioni Qui siamo a Pesaro, da lunedì andranno a rafforzare la squadra dei medici che sono addetti all'anamnesi dell'ex Ristol L'intoppo, ci sono delle file purtroppo causate da tanti dubbi su AstraZeneca Il 50% dei pazienti lo rifiuta e dunque si rimette in fila Poi le notizie in breve Esperimento Rondò per case bruciate, già aperto il cantiere Per la giunta regionale invece il nord delle Marche ormai non esiste più Questa è una polemica sul turismo Tutte le volte che esce un catalogo, tutte le volte che si parla di turismo Tutte le volte che la regione fa qualcosa dove mette in mostra i gioielli di famiglia Quando mancano tra questi gioielli di famiglia Immagini, riferimenti a città come Pesaro, Gabice, vedremo Ma anche la stessa Fano, chiaramente scoppia la polemica E poi a Fano, a Quaroli con tre assessori lancia il progetto turismo La cronaca di taglio basso Ragazzini scippano la nonna che passeggia con la nipotina Oggi la festa della Polizia di Stato Un anno di attività di indagini, di controlli Continua e poi per la VL, altra chance a Bologna Sponda F Adesso il Carlino Ma tra i banchi il virus cresce E questa è una notizia, anzi una fotonotizia Che riguarda i tamponi alle scuole seconde e terze medie Dove spuntano altri 21 positivi Mentre le marche in giallo ma solo nei numeri Perché le cifre che indicano certamente un contagio in ribasso Ma senza poter far nulla Nel senso che incidono poco sulla vita reale Questi numeri che comunque sono da numeri appunto da colore giallo Per le riaperture infatti si dovrà aspettare Arancioni dunque per un'altra settimana Arancioni possiamo dire così per decreto se vogliamo Perché di fatto il decreto ha bloccato tutte le colorazioni Al massimo si può essere arancioni o rossi Gialli no, bianchi figuriamoci Il principe Filippo, il mondo saluta il consorte della regina E questa è una fotografia che riguarda il sindaco allora di Acqualagna Il sindaco dei tartufi Pierotti Che ricorda l'incontro appunto con il principe Filippo Al quale il sindaco a un certo punto ha detto Gli ha detto beh le spieghiamo noi come si coltiva il tartufo Visto che da lui in Inghilterra insomma Non aveva grande successo con questo tubero L'Adria riposo invece in pandemia Denunce di furto praticamente dimezzate Sono i dati della Polizia di Stato Ancora lo sport sulle prime dei giornali La Viz torna ad Arezzo lo stadio della Vittoria E poi anticipo il play farà il test oggi La Vuella a Bologna E Robinson ci spera Sperare insomma di essere tornato negativo Toz e Chiara Ecco qua Un matrimonio annunciato La nota influencer Ferragni entra nel CDA Visitò l'azienda già nel 2017 E venne realizzata una collezione limitata di mocassini e borse La fashion blogger è stata scelta per portare avanti i progetti legati all'impegno Sociale Di questo parla anche il Corriere Adriatico I tartufi del Principe non crescevano Gli abbiamo detto noi come fare L'ex sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti Rievoca l'incontro del luglio 2010 con sua altezza reale Filippo aveva una tenuta troppo giovane Gli servivano altri anni Ma fu cordiale e ci invitò anche a pranzo E poi la stagione balneare Questa è un'altra notizia Pagina 7 del Resto del Cardino Che inizierà il primo di maggio Quindi tra poco L'annuncio l'ha dato l'assessore regionale Stefano Guzzi Al convegno sul turismo che si è tenuto ieri a Fano Lunedì porto in giunta Dice la delibera per l'apertura delle concessioni Il piano triennale servirà a valorizzare l'unicità della nostra regione in tutta Europa Ha detto Acquaroli E a proposito di promozione A proposito di città, di bellezze Il titolo sul fronte del turismo Oggi sul Carlino è Pesaro, Gabice e Gradara Snobbati dalla giunta regionale Gli amministratori delle città Accusano Il progetto per attrarre i visitatori Trascura le nostre realtà Dando valore però a Urbino O meglio solo a Urbino Ci sembra di essere tornati indietro di 40 anni Solo Macerata Viene definita città della musica Snobbando quindi Pesaro la città rossignana E insomma Questa è un po' Questa è la vicenda Insomma Pascuzzi Sindaco di Gabice Che dice E' come se ci avessero considerato In Emilia Romagna E intanto questa è la fotografia che ritrae Cinque bellezze però fanesi Se non ho visto male Se non ricordo male Punto vaccinazioni Da lunedì attivate Due nuove postazioni Andranno a rafforzare le squadre La squadra dei medici Che sono addetti all'anamnesi Il tappo causato dai tanti dubbi Come dicevamo Su AstraZeneca Infatti Uno su due Quando sa che lì C'è il vaccino AstraZeneca Sulla siringa Molti Strabuzzano gli occhi Si fermano un attimo Panico E poi Molti decidono Un su due Decide di non Di non farlo E poi Poi chiaramente In questi casi Insomma Un po' L'operatore cerca di convincerlo Quindi si perde del tempo Ma per il resto Poi quando c'è Da ritornare indietro Rimettersi in fila Idealmente Perché poi non è che si rimette in fila Dovrà riaspettare Riaspettare il suo turno E Questo ovviamente Crea problemi Intanto Lo screening Sulle scuole medie Va avanti Ci sono Anzi sono stati trovati 20 positivi Appesero Tra le seconde I ragazzi Delle seconde E le terze medie 20 positivi Dunque 10 classi Praticamente isolate L'adesione degli alunni Supera il 70% Polemica Sull'esclusione Del personale E Non so chi di voi Quanti di voi Ieri Hanno visto Il nostro telegiornale Abbiamo intervistato Il sindaco di Pesaro Proprio Matteo Ricci Che ha fatto un po' Il punto della situazione E Matteo Ricci Ha strigliato di nuovo La regione Ma anche lo Stato Si poteva fare di più Su questi screening Dice In effetti I numeri In questo caso Gli darebbero anche ragione Perché quei 10 20 ragazzi Ragazzini Quasi probabilmente Tutti asintomatici Che sono stati trovati positivi Certamente erano 20 persone Che potevano contagiare Altre Altrettante Ma sicuramente Molte di più Persone in casa In famiglia Nella stessa scuola Quindi Averli trovati Averli scovati Averli messi in quarantena È sicuramente Una cosa buona E Nel Carlino A pagina 9 di oggi C'è un altro Politico Che governa Veneto Che è d'accordo Sui tamponi A scuola E sentite Sentite che cosa Risponde a proposito Dei tamponi a scuola Perché non si riescono A fare La risposta di Zaia È questa Perché È il paese Dell'ufficio Complicazioni Cioè L'Italia L'Italia È il paese Dell'ufficio Complicazioni Complicazioni Cose semplici Complicazioni Cose semplici È l'ufficio Dei comitati È l'Italia È l'Italia Delle parti lese È l'Italia Dei tribunali Amministrativi Siamo ingessati In altri stati Il test rapido E io sono stato Il primo a lanciarlo Dice Zaia Lo vendono al supermercato Noi abbiamo genitori Che ci diffidano A scuola I genitori ci diffidano Dal farlo Durante un focolaio Dovrebbero organizzare Tutto le regioni Sì Ma lo strumento Del test Fai da te In Italia Non è autorizzato Manca sempre Una carta Se io potessi andare In un liceo Con uno scatolone Di test E dire agli studenti Ogni lunedì Fateli Perché mai chiudere Le scuole Allora Giustamente Ecco Come vedete Il pensiero Di Matteo Ricci È il pensiero Di Luca Zaia Intanto Sui vaccini A Pesero Fila bloccata Davanti ai pochi medici AstraZeneca No grazie Altra giornata Di caos Al Ristò All'interno Dell'Iper Conad Il grande centro commerciale Si trova Appunto vicino Al palazzetto Al palasport Di Pesero Le visite Si allungano C'è chi Rievoca Il morbillo Avuto a sette anni A maestre Collaboratrici Scolastiche Riservate Le uniche 92 dosi Di Pfizer E poi Il giornale Insomma Racconta Un po' Quello che è successo Gli umori Raccolti Durante questa Ennesima giornata Anche molto Faticosa Una coppia di coniugi Dice Siamo contenti Di essere arrivati Finalmente qui Ma i nostri figli Hanno paura Per noi Come vi dicevo L'altra volta Cerca dieci giorni fa Due settimane fa A complicare le cose Non sono tanto Gli anziani Che a 90 anni Insomma Prendono la vita Un po' con filosofia Ma sono i figli I parenti Quelli che accompagnano Solitamente Che fanno storie E che hanno paura Per i genitori O coloro che hanno Accompagnato Iniettati E qui adesso Non voglio mettere Paura a nessuno Ma Leggo semplicemente I giornali Iniettati Che trova sempre Spazio sulla pagina Di oggi Del Corriere Adriatico Di Senigallia Trombosi fulminante Dopo la seconda dose Ma attenzione Non di AstraZeneca Bensì di Pfizer Un 81enne È morto infatti Di trombosi fulminante Circa 12 ore dopo Aver fatto la seconda dose Del vaccino Pfizer Stava bene Non aveva Malattia pregresse L'Asur Fa sapere Che non è assolutamente Scontato Che le due dosi Siano correlate E che al momento Non c'è alcuna prova Che si tratti Di una reazione Avversa Quindi diciamo Subito Anche questo Per tranquillizzare L'elenco delle riserve Il Corriere Adriatico Che chiaramente Va avanti In questa sua Nel raccontare Insomma In questa sua Storia Che ha iniziato Con quella 52enne Di Porto Recanati Che si è presentata Come dicevamo Anche gli altri giorni Si è presentata Al centro vaccinale Di Ancona Per Farsi vaccinare All'ultimo minuto Senza essere Prenotata Sperando Da riservista Sperando Di Riuscirci E c'è riuscita Però ha scatenato Un putiferio E adesso Si è mossa Anche la Regione Si è mossa Anche la Procura L'elenco delle riserve Per stanare I furbetti Dei vaccini Last minute La Regione Sta preparando Un dossier Incrociando i dati Di chi ha ricevuto Le dosi Caos pure Nel report Delle somministrazioni Sul sito del governo Numeri diversi Medici e infermieri Novax Invece Pronti Almeno Così C'è scritto In un gruppo Chiuso Su Facebook A marciare Su Roma Cioè Ci sono ancora Novax Tra infermieri Medici Operatori Sanitari Eccetera Eccetera Che si starebbero Dando appuntamento Per manifestare A Roma Esattamente Il prossimo 21 di aprile Alle tre Nel pomeriggio Davanti a Montecitorio Sono medici Infermieri Operatori Sociosanitari Psicologi Di tutta Italia Uniti da una duplice Battaglia professionale E identitaria Contro la vaccinazione Anti-Covid E contro il decreto legge Che di fatto Impone alle categorie L'immunizzazione A tutela Dei pazienti Ecco Ora Chiaramente È un gruppo privato Ci sono 18.000 Iscritti Si possono leggere Anche risposte Deliranti Del tipo Che se Uno dice Se vi telefonano Per fare l'iniezione Voi dovete subito Denunciarli per stalking Cioè Questo è il livello Ma comunque Il 21 Dicono Saremo a Montecitorio Vedremo Vedremo Se sarà Così Oppure no Intanto Corriere Adriatico Ancora Ogni medico Di famiglia Riceve Sei dosi A settimana Così è difficile Accelerare Beh è chiaro Se con sei dosi Alla settimana Campa cavallo Maggi Segretario Segretario regionale Ripartire Ripartire Quando Soprattutto Ripartire C'è una data Ed è quella Che chiedono Anche baristi E ristoratori Per non arrivare Sempre all'ultimo minuto Immaginate voi Un ristorante Chiuso da settimane Che deve ripartire Con la cucina Deve richiamare I camerieri Deve richiamare Un po' di gente E non può Saperlo il giorno Prima Ha bisogno Di fare la spesa Ha bisogno Di prendere Prodotti freschi Insomma Ha bisogno Di organizzarsi In poche parole Ora E chiedono dunque Una data Certa Quale potrebbe essere Questa data Certa Non c'è ancora Però si pensa Al 25 di aprile E già siamo Al giorno Della liberazione Speriamo che sia La liberazione In tutti i sensi Ecco il piano Per riaprire Barri e ristoranti Questo è L'articolo Che troverete A firma di Claudio Marin Sul Carlino Nazionale La settimana Chiave Potremmo definirla Così Appunto È questa qui Il giorno Della liberazione Il giorno Della ripartenza Della vita sociale Nel nostro paese Con ristoranti E bar pronte Ad accogliere Di nuovo Sia pure Con più rigidi Protocolli di sicurezza Basati sulla Prenotazione Obbligatoria Quindi I clienti Ai tavoli Dei locali Almeno Nelle regioni O nelle città Che verranno Ritenute Nelle condizioni Di poterlo fare Potranno Riaprire E sarà Probabilmente Obbligatoria La prenotazione Bisognerà Prenotare Insomma Ecco Poi Capire come Avverrà Questa cosa Bisognerà Prenotare Intanto Se vogliamo Vedere Il bicchiere Mezzo Pieno Di tutta Questa Pandemia Di tutta Questa Popò Di roba Qua Il Covid Sicuramente Ha un merito Quello di Azzerato Se non Dimezzato Sicuramente Ma quasi Azzerato I furti Per esempio Nelle case Però Non lo spaccio Di droghe C'è oggi La festa Della Polizia Di Stato Un anno Di attività Di indagine Di controlli Oggi Ricorre Il 169 Anniversario Della fondazione Della Polizia Di Stato È un importante Appuntamento Che solitamente Ha un rituale Una cerimonia Eccetera Eccetera Quest'anno Però purtroppo Come l'anno scorso Si può fare poco Mentre Anche qui Sul resto del carlino Il titolo Il lockdown Abbatte furti Arresti Ma c'è un'aggiunta Da Pesaro Se ne vanno 3.000 stranieri Sono alcuni i dati Dei 12 mesi Di attività Della Polizia Oggi ricorre Il 169 La cerimonia Sarà dedicata Alla deposizione Di fiori Al monumento E caduti Nella caserma Di via Flacco Poi c'è un'iniziativa Di cui abbiamo parlato Anche ieri Nel nostro telegiornale Ora ti insegno Come fare L'imprenditore Corsi In collaborazione Con la Politecnica Organizzati Da Confartigianato Sono lezioni Anche per chi È alle prese Con il ricambio Generazionale È un appuntamento Importante Tra l'altro È arrivato Mi pare Se non ricordo male Sì Alla sedicesima edizione Anche il Corriere Adriatico Ne parla Si tratta Di una scuola Di alta formazione Rivolta A giovani imprenditori Alla sedicesima edizione Che da quest'anno Lancia anche L'innovativo Corso Young Cioè per giovani Poi ad Ascoli Invece Vi faccio vedere Questa pagina Perché Come Ascoli Ce ne sono tanti Che vivono lo stesso drama Il dramma del circo Bloccati uomini e animali Uno dei cento teatri italiani Rimasto fermo da ottobre Loro dicono Siamo rovinati Sopravviviamo Grazie agli aiuti Alle collette Dei cittadini Ora qui parliamo Di un circo Che si chiama Madagascar E che sono ormai Allo stremo delle forze Nei primi di novembre Quasi tutti Insomma Sono tutti fermi Si parla di 80 persone Che fanno parte Di questo circo 20 atleti 40 impiegati 40 addetti Alla manutenzione 12 i bambini Cirocensi Tutti iscritti Regolarmente Alle scuole locali 100 appunto Gli animali Che vanno Dalle giraffe Ai leoni Anche loro Sono considerati Componenti Della compagnia Poi sulla pagina Invece Con le notizie In breve Del Corriere Adriatico Vi segnalo Questo titolo E questa notizia Che ci dà un po' Uno spaccato Della vita Di ogni giorno Abbiamo visto Che i furti Sono dimezzati Nelle case In particolare Però I furtarelli Quelle cose lì Continuano sempre E il Corriere Adriatico Oggi ne ricorda Due in particolare Intanto il titolo Vabbè Riguarda Una vicenda Tra una coppia Tra un uomo Una donna Tormenta L'ex fidanzata Un 48enne Pesarese Denunciato per stalking Mentre Gli altri furtarelli Che dicevamo appunto Riguardano Allora Un intervento Della volante di Pesaro Che è intervenuta Per 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 la denuncia Di un furto Da parte Di un dipendente Della Liomatic Quelle delle macchinette Del caffè Mentre faceva manutenzione A questa macchinetta Una donna Così ci immaginiamo Anche come Potrebbe Può essere accaduto Una donna Arrivata in auto Ha aperto il furgone E ha rubato Il portafoglio Dell'uomo Poi è scappata In tutta fretta Ecco Immaginiamoci la scena E così Abbiamo idea Di quello che è successo Ieri a Pesaro A un certo punto Questo che sistema La macchinetta Arriva una donna Con la macchina Scende Apre il furgone Prende il portafoglio E scappa via L'altra scenetta Potremmo immaginare Ieri all'Ipercop Dove due donne Di origine rom Con la scusa Di aiutare Una signora A prendere Dei prodotti Dalla scaffalatura Immaginate Scaffalatura Un po' più alta Insomma Una signora Un po' bassetta Queste due donne Che in qualche modo Si offrono Per aiutare Questa donna Ma Da una parte L'hanno aiutata Dall'altra L'hanno raggirata In che modo Le hanno rubato Anche qui La borsa Con dentro Il portafoglio E su questo caso Di furti Insomma Indaga la polizia Di Pesaro Poi però C'è anche un'altra notizia Dove sempre Da Pesaro C'è stato un incidente Perde il controllo Dell'auto E finisce contro Della vettura E finisce contro Le auto in sosta Paura per una bambina Di 5 anni Un incidente Che c'è stato Ieri pomeriggio Intorno Sulla statale 16 La pagina di fan Invece del Carlino Aset Marche Multiservizi Fratelli d'Italia Il sindaco Seri Si dimetta La coordinatrice Loretta Manocchi Dice Non ha più La maggioranza In consiglio La Tarsi Mozione Individua Individua Strade Nuove Reginelli Il capo Di Aset Dice Il tempo È determinante Poi si parla Di questa Bambina Si chiama Greta Piccola Greta Protagonista Del corto In concorso Con la RAI Piccoli attori Crescono E ancora La cronaca Con un ciclista 75enne Travolto in via Cavallotti A Fano Vicino alla stazione Ferroviaria L'uomo è rotolato A terra Soccorso Da un'ambulanza Del 118 È stato poi trasportato Al Santa Croce Dove Si trova In osservazione E poi Paura per una donna Sempre a Fano Tamponamento Nella frazione Di Bellocchi Finisce Dalla parte Opposta Della strada Un violento Tamponamento Che è successo Con una microcar Che finisce Nella parte Opposta Della strada Ma la conducente Se la cava Solo con qualche Lieve contusione Sempre da Fano Il Corriere Però Turismo La visione Integrata Sviluppo Con culture E denogastronomia Il programma Di acquaroli Ospite Di commercio Carloni Valorizza Il distretto Del cibo La nuova scuola Invece sarà Ultimata Per l'inizio Dell'anno scolastico La primaria Di Carrare E Cucurano Di Fano Le rassicurazioni Dell'assessore Sul mese Di settembre I ritardi Determinati Dalla complessità Dei lavori Per la parte Dell'asilo Mancano Invece I fondi Da Vallefoglia La piano ormai È una Discarica I controlli invocati Dove sono Salotto E mobili Lasciati Nell'area 2 Sale Le indignazioni Di residenti Della zona E dei lavoratori Mentre sotto L'ospedale di Cagli No propagandasi Al confronto Alberi tagliati A Urbino Curva liberata Mai più incidenti O pericoli Vedete questi alberi In questa curva Che ostruivano La visuale Autisti Degli autobus Di Adribus Soddisfatti Dopo l'intervento Di Anas Sulla statale Trebis Mentre L'inchiesta Palloni gonfiati A Urbino Il giudice Assolve tutti Si è chiuso ieri Il processo Per gli imprenditori Che tra il 2010 E il 2012 Avevano versato 400 mila euro Di sponsorizzazione Al pieve Di Cagna E poi La ciclovia Quella che collegherebbe Colli al Metauro Con Fano C'è una raccolta Di firme Ebbene Sono arrivate Con questa petizione A qualcosa Come 5 mila firme Promossa da tre appassionati Della bicicletta Sulla piattaforma Change.org Ora siamo giunti Al termine Di questa nostra Rassegna stampa Allora io Ho giusto il tempo Per ricordarvi Che questa sera Alle 21 In diretta Dalla Basilica Di Loreto Quindi dalla Santa Casa Come tutti i sabati Trasmetteremo in diretta Il Santo Rosario Poi domani invece Domani è domenica È la festa Della Divina Misericordia Noi qui abbiamo Una cappellina Dedicata alla Divina Misericordia Dalla quale ogni giorno Alle tre I nostri volontari Vengono qui a pregare La coroncina E il rosario Domani alle 10 e mezza Con Papa Francesco In diretta Sempre su Fanu TV Trasmetteremo Dalla Chiesa Di Santo Spirito In Sassia Dove abbiamo Acquistato anche Il quadro Che abbiamo in cappellina E benedetto anche Benedetto il priore Dalla Santo Spirito In Sassia Trasmetteremo La Santa Messa Nella giornata Della Divina Misericordia È tutto Grazie per averci seguito Vi auguro Un buon fine settimana A tutti Arrivederci